Io ho cominciato a cucinare a 7 anni perché avevo la mamma in ospedale ed ero col mio papà e guardavo sempre quando mia mamma cucinava e curiosa, col sgabellino mi mettevo vicino e ho cominciato a fare il mio primo piatto che tra l'altro è anche quello che a me piace tantissimo, il pollo in umido, è una nostra ricetta sempre della tradizione. Da lì sono andata avanti quando sono cresciuta, la domenica invece di andare in giro con le mie amiche stavo a casa con le ricette, mi piaceva tanto andare alla ricerca di qualcosa sempre però con la mia idea sempre culturalmente nel territorio e cominciavo a fare i piatti, poi alle cene di miei genitori le preparavo io, andavo con mio papà a prendere il pesce al mare e facevamo queste serate che tutti rimanevano incantati perché dicevano possibile che una ragazza così piccola riesca a fare queste cose, però la passione quando ce l'hai nel cuore ti esprime tutto poi anche con le mani e con la testa. È sempre stata la mia passione studiare il territorio, la cultura del cibo, la cultura del nostro popolo, dei nostri nonni, di quello che ci hanno lasciato perché abbiamo un tesoro, dalle colline alla pianura, al mare abbiamo una ricchezza ed è giusto questo salvaguardare, che dico anche ai giovani cuochi di adesso, non andare tutti sulla cucina gourmet ma guardare anche quello che ci hanno lasciato perché se no perdiamo tutto, perdiamo il cibo sano. Mi ricorda tanto quando avevo il mio ristorante che mi piaceva andare a raccogliermi la verdura, la frutta, andare a trovare i contadini e prendere la loro produzione, ascoltare la loro storia che così ancora di più riesci a trasmetterlo poi al cliente perché lo senti, hai visto il percorso, esegui il tuo lavoro e poi lo offri. Il tuo calore che hai, il tuo sentimento lo fai proprio uscire, io ce l'ho nel cuore questo e ho scelto questa cucina perché ho detto non voglio lasciare perdere le nostre tradizioni e vado alla ricerca di tutti i piatti che sono in disuso. Io ho collaborato con l'Università di Tor Vergata proprio per la ricerca dei piatti mediterranei, il nostro Veneto ne ha tantissimi che possiamo abbinare per una buona dieta sana mediterranea. Ho fatto anche dei libri dove dove parlo di queste ricette con anche l'aiuto dell'Università con gli indici nutrizionali di ogni piatto. Quando avevo il mio ristorante abbiamo fatto anche con i bambini la ricerca dei nostri alcuni prodotti tipo la casatella, abbiamo fatto l'analisi sensoriale abbinando a un formaggio il Philadelphia che così si poteva vedere la differenza, la qualità e la genuinità del piatto, con proprio il casaro che faceva la casatella, poi gli oli d'oliva e dopo una mia storia che mi piace anche raccontarla sono andata in Vaticano a cucinare per il Papa e sono stata la prima donna che è entrata nel Vaticano. L'importante per me è trasmettere quello che è il piatto, la cultura, il cibo, la storia, questo. Mi piacerebbe tanto di nuovo lavorare in questo mondo facendo anche qualche osteria, fare qualche cicchetto di una volta, questi piatti qua, spiegarli, fare una storia, parlare col cliente e viverlo insieme. Non ci dobbiamo dimenticare della storia del nostro territorio, quello che ci ha dato e valorizzarlo, è importantissimo.